Salve, un annuncio veloce, vi aspetto domenica sulla mia pagina alle ore 18, parleremo di stress, un argomento che mi avete richiesto in tanti e come oggi ovviamente esistono molte cause, molti stressor che vanno ad incrementare il cortisone, il cortisone va a fare un po' di danni dappertutto e quindi con me ci sarà l'autoressa Di Pomponio che vi darà come psicologa anche dei consigli pratici e utili per rimediare e per gestirlo al meglio questo stress, quindi a domenica alle ore 18. Ciao, sono Eliana Di Pomponio, psicologa, psicoterapeuta e docente universitaria. Domenica 24 gennaio alle ore 18.30 insieme al dottor Garitano, biologo nutrizionista, parleremo di stress e tutto ciò che comporta sul nostro organismo dal punto di vista biologico e dal punto di vista psicologico. Parleremo degli effetti dello stress sul sistema immunitario, sul sistema digerente e sul sistema mente-corpo e alla fine daremo dei consigli su come fronteggiare situazioni stressanti della vita quotidiana. Ti aspettiamo!